O me o la tua amica pazza, solo uno di noi può restare! Che scelta difficile! Ma che dico, la scelta è ovvia! Quando un'amica viene a trovarti devi essere super ospitale! Siediti tesoro, ecco il tuo tè! Ed ecco i dolcetti, buon appetito! Uscire con un'amica è fantastico! E non è venuta a mani vuote! Guarda che delizia ho portato! Ah, è così bello! Ma noi pensiamo che la vera amicizia sia... andare a casa di un'amica e fare come se fossi a casa tua! Ciao, sai dov'è il frigo? Sì, se hai fame aprilo e prendi ciò che vuoi! Mmm, salame! Ma che... Ah, questo va nella spazzatura! Non essere parca! Hai un panino a più strati! Gnam gnam! Oh, dimenticavo di condividerlo con lo sponsor! Ecco la tua metà! Gli ingredienti sono tuoi, dopo tutto! Come tornano a casa le amiche normali? Ok, grazie per la serata, è stato fantastico! Allora ci vediamo! Sì, è stata una grande festa! Grazie per la compagnia, buonanotte! Come si torna veramente a casa da una festa? Per prima cosa bisogna aprire la porta! Fatto! Ora oltrepassa la soglia! Scarpe? Uh, ecco fatto! Puoi abbassare il volume del singhiozzo! Ti ricordi, vero, dov'è il bagno? Ehi, dove vai? Le ragazze non vanno in bagno in coppia per spettegolare sui ragazzi, ma tengono i capelli dell'amica mentre lei abbraccia il vater. E chi fotografa la situazione? Hashtag qualcosa da ricordare! Ups! E' ora di finire la storia! Muoviti, è il mio turno! Come ha potuto farmi questo? Dove sono i fazzoletti? Non piangere, tesoro! Asciuga le lacrime! Gli dispiacerà di averti scaricata! Mangia la torta, lo zucchero ti farà sentire meglio! Non c'è niente come essere capiti dalla migliore amica! Ehi, perché piangi? Datti una regolata, scema! Mi ha scritto questo! Fammi vedere! Che stronzo! Smetti di piangere! No, non è così che ci si vendica! Una piccola vite ti tirerà su di morale! Dov'è che parcheggia la macchina? Capisci cosa intendo? Lascia un piccolo messaggio sul copano! Ma è illegale! È illegale fare del male alla mia amica! Non preoccuparti, ti copro le spalle! Brava ragazza, ora scappiamo prima che ci vedano! Stiamo solo camminando e... Aspetta! Che bel negozio! Ci sono alcune cose che sono perfette! Prova questo! E questo! Cos'altro hanno qui? Beh, per ora basta così! Andiamo al camerino! Faremo una spilata di moda! Ok, numero uno! Che ne pensi? Non male! Ma non mi convince! Continuiamo! Purtroppo, o grazie al cielo, la mia amica si comporta diversamente nei camerini! Santo cielo, cos'è? Mi prendi in giro? Mi vergognerai! Toglitelo subito, così non lo vedo! Ma guardati, sei ridicola! Schietta alla ragazza, eh? Ok, quello no, ma che dici di questo? Oh, molto meglio, baby! Sei una bomba! Super stupenda! Lo adoro! Quando sei con un'amica puoi risolvere qualsiasi problema! Attenta, c'è una pozzanghera profonda! E non vorrete bagnarvi le scarpe da ginnastica! È ciò che fanno le normali amiche! Ma non noi! Chi guarda mai la strada? Una pozzanghera? Che disastro! È così bagnata! Non preoccuparti! Arrivo! Che c'è? Pensavi che ti avrei lasciata così? Non credo proprio! Inzuppiamoci insieme! Allenarsi con un'amica è la cosa migliore che si possa fare in palestra! Ci si sostiene e ci si aiuta sempre a vicenda! Si condividono i consigli! E poi è molto più divertente insieme! Potete scattare dei selfie! E se non sai come fare... Ci si diverte un po' a provare le macchine dei pesi! E se aumentassimo il peso? Riesci a sopportarlo? Wow! Questo è troppo! Oh! E questo cos'è? Guarda! Sto volando! E si registrano anche video davvero divertenti! Ecco il nostro stile di vita sano, gente! Evviva! Una festa! Non c'è spazio per le ragazze timide qui! Perché tutti spingono? Non ci vedono ballare? Ehi, non siete gli unici qui! Per fortuna io e la mia amica non siamo timide! Troviamo il nostro posto a qualsiasi festa! Sai perché? Perché siamo le regine della pista da ballo! Fate spazio! Vi mostreremo come si balla! Ora facciamolo insieme! Alza il volume! Una vera amica ti aiuterà sempre a prepararti per un appuntamento! Ti acconcia i capelli! Ti darà buoni consigli! Ti spruzza il profumo! Buona fortuna, tesoro! Spero che vada tutto bene! Ai! Era caldo! Ma la mia amica non si comporta proprio così! Mi aiuterà a prepararmi e farai in modo che l'appuntamento vada secondo i piani! Lei è sempre lì per te! Dentro al tuo orecchio! Prova! Prova! Mi senti? Operazione caccia all'uomo è aperta! Ma tutto alla grande! Ben fatto! Mi ricevi? Mi ricevi? Il soggetto è interessato a te! Puoi fare qualche mossa! Che tipo di mosse? Che vuoi dire? Deve insegnarti tutto! Dai! Spostati! Così! Vieni qui, bello! Visto? Prova tu! Tutto qua! Buona fortuna! Chiamatemi se avete bisogno di me! Una buona amica non ti farà morire di fame dandoti le prelibatezze più raffinate! Mmm! Che profumino! E sembra deliziosa! Che cos'è? Una cozza! Sì! Pizza e i frutti di mare! La tua preferita, no? Oh no! Tutto tranne questa! Sì! Io amo i frutti di mare! E adesso? Mmm! Che pranzo fantastico! Una piccola bugia non fa mai male! Ma come si comporterà la tua vera amica? Forza, mangiamo! Cos'è questo strano odore? Frutti di mare? Scherzi? Che puzza! Annusala tu stessa! Ups! Non sei piaciuta alla pizza! Oh, che peccato! Sfida accettata! Prendi questa! È una battaglia di pizza! Come fanno gli acquisti le persone normali? Seguono una lista? Perfetto! E ci atterremo a quella! Sii intelligente quando fai shopping! Ok, questo non è sulla lista e non lo prendiamo! Come facciamo la spesa io e la mia amica? Spontaneità e improvvisazione sono le nostre migliori qualità! Cosa c'è in vendita oggi? Uh, un intero stand in svendita! Porta il carrello! Faremo incetta! Dov'è la mia amica? Ero così occupata a fare shopping che l'ho persa! Hey! Oh, sono così felice! Pensavo che non ci saremmo più riviste! Mmm, serata tra ragazze! Un ristorante accogliente, bicchieri di vino! A noi! Ed ecco il nostro ordine! Fantastico! Un capolavoro culinario! Facciamoci un selfie! Perfetto! Pensi che sia così una normale serata tra ragazze? Forse per alcune! Ma non per noi! Questo pub è fantastico! Ha gli hamburger più succosi e grandi! Fantastico, vero? Non hanno aperto la Pepsi! Pace! Per il tappo la mia amica usa i denti! Guanti usa e getta! Non sarà necessario! Molto meglio a mani nude! E' delizioso! Allora, quali sono gli ultimi pettegolezzi? Parliamo di tutto! Poveri, poveri studenti! Non c'è tempo per mangiare! Bisogna essere un po' più furbi e mangiare durante le lezioni! Ma potrebbero beccarti! E' da lì che finisci nei guai! Ma per le ragazze in fondo non c'è pericolo! Siamo pronte per ogni avventura! Ecco perché ci nascondiamo sotto la scrivania! E ci godiamo il pranzo! Patatine fritte, pollo, tutto fresco! Perché accontentarsi di meno? Un drink è d'obbligo! Più condimento! Ah, quanto mi invidio! Non avevamo nemmeno così tanta fame! Queste situazioni ti suonano familiari! Come si chiama la tua migliore amica? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun video sugli amici di Troom Troom Select!